I carabinieri di Fano hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da tempo i militari erano sulle tracce di un pugliese originario di Bari 32enne ed un tunisino 29enne. Il primo dava supporto logistico e garantiva i trasporti di stupefacente avendo la disponibilità di un'autovettura, il secondo gestiva i contatti utili all'approvvigionamento e trattava gli acquisti. Il pugliese poi spacciava l'eroina sulla piazza di Marotta previo appuntamento telefonico mentre il tunisino, più scaltro, non usava alcun cellulare. I clienti sapevano dove poterlo trovare o nella zona dei passeggi oppure al vallato senza conoscere però esattamente l'ora. Questo creava un andirivieni di eroinomani lungo i parchi cittadini che bighellonavano per intere giornate in attesa del pusher creando allarme sociale e preoccupazione soprattutto da parte delle famiglie che frequentano i giardini con i loro figli. Durante un appostamento i militari hanno visto i due salire in auto e ipotizzando si trattasse di un carico li hanno pedinati finché non hanno imboccato l'autostrada in direzione sud così il pedinamento si è interrotto. Nel tardo pomeriggio però dopo una lunga e paziente attesa in una piazzola dell'autostrada i carabinieri hanno visto sfrecciare il mezzo con i due sospetti a bordo in direzione Fano ed il pedinamento è ricominciato. All'uscita di Marotta i due hanno trovato la pattuglia che li attendeva e con una manovra repentina e spericolata si sono rimessi nella corsia di marcia ma i militari erano ad aspettarli anche a Fano dove la pattuglia si è messa di traverso e li ha bloccati e recuperato 60 grammi circa di eroina non ancora tagliata che i due hanno tentato di buttare dal finestrino. Ora i due entrambi già noti alle forze dell'ordine sono stati tratti in arresto e condotti in carcere. Oggi è stato convalidato l'arresto e il giudice ha disposto la permanenza in carcere.